buongiorno a tutti sono stefano zeni endorser del marchio cantini electric violins oggi sono qui a presentarvi il modello top gamma della serie si chiama earphonic the king natural che è questo violino che vedete ha cinque corde monta sia ponticello che elettronica con un sistema issp 2 quindi ha una trasduzione del segnale ottima come vedete appunto ha due uscite una midi e l'altra audio io utilizzo molto sia l'uscita midi che quell'audio ma soprattutto utilizzo in serie prima un pedale che dà dei suoni midi che poi vanno a un'altra pedaliera dove ho diversi tipi di effetti per cui il segnale viene modificato in maniera eccellente ha una risposta ottima quindi è molto pronto il suono una risposta sull'archetto l'arcata è perfetta il suono è è pastoso è gradevole è molto bello e secondo me è uno dei dei migliori violini elettrici che ci sono sul mercato al giorno d'oggi e io lo utilizzo sempre in tour durante durante i miei concerti ora vado a farvi sentire un mio brano che si intitola orange clouds on the horizon tratto dall'album parallel path uscito nel 2018 per l'etichetta zanetti records dove vi faccio appunto vedere l'utilizzo proprio pratico degli effetti collegati all'earphonic voglio ringraziare naturalmente carlo cantini che è l'ideatore di questo splendido strumento e con questo vi saluto vi auguro buona giornata e a presto ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti